...a proporre grandi classici e nuova drammaturgia, artisti famosissimi nazionali e internazionali, molti siciliani già divenuti famosi e molti che vogliamo che lo diventino, per cui sono inseriti all'interno di cartelloni importanti. Infatti la divisione nostra fra Sala Grande e Sala Streller, non è che la Sala Streller noi la riteniamo la palestra dove far fare una cosa piccola ai giovani, no, ci mettiamo anche grandissimi nomi, per noi la differenza è come fra l'opera e un piccolo concerto da camera, cioè tra un monologo e un grande spettacolo, il monologo ha bisogno, come dire, il pubblico di vedere la lacrima che scende, la ruga che si forma col sorriso nella faccia di un attore, quindi c'è bisogno della Sala Piccola. È una differenza di genere e non di importanza. Esatto, infatti abbiamo in Sala Grande anche i nostri giovani e in Sala Piccola dei nomi. Noi vogliamo i nomi, vogliamo i nomi, mandiamo una canzone alla radio così al nostro ritorno vogliamo proprio capire chi c'è, chi sono questi nomi, le date, vogliamo saperne tutto. Ci sono gli stadio, nel frattempo ora siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Radioin, poi i nomi del cartellone li riprendiamo mentre si colla la radio. Sì, sì, lo so, lo so, lo so, sono già venuta qui, sono una piccola B2E e per cui no, è stato per esempio a Brancaccio emozionantissimo. Io appena arrivata, ti ricordi, la prima cosa che feci fu una rassegna teatrale con l'associazione Padre Nostro dentro il centro sportivo. Tra Maurizio Artale e tutti i suoi collaboratori è nata veramente un'amicizia e tanto lavoro fatti insieme. Loro hanno su ogni spettacolo, avevano 20 posti disponibili per far conoscere il teatro anche al quartiere, quest'anno diventeranno 50 a loro disposizione su ogni spettacolo, ma soprattutto abbiamo pensato ad andarci noi e non vi dico, siamo entrati prima in una festa di bambini e sono entrati col gruppo della musica e a raccontare di Ulisse tutta l'Odisse in dieci minuti. Dieci anni e dieci minuti c'è una bella differenza. No, ma al centro Padre Nostro io c'ero, abbiamo fatto voci dal silenzio del film di Joshua Valent su Gli Eremiti, bellissimo, dovevi vedere il pubblico lì seduto nelle sedi. Ma vera, sono già un po' di anni che stai entrando nel tessuto palermitano. Vedi una differenza da un anno all'altro della risposta del pubblico quando viene a ricevere il teatro? Ma questo assolutamente sì. Certo, purtroppo sono stati anni dove siamo tornati indietro su tante cose a causa del lockdown, per cui anche le persone che si spingevano in nuove avventure sono state ricacciate forzatamente dentro le case e dentro anche i loro problemi, perché insomma non dimentichiamoci peraltro che in questi quartieri la convivenza è stata magari di dieci persone in due stanze, col muro davanti lì dove passa il trenino, che non hanno più neanche l'accesso se non attraverso dei sottopassi che peraltro si allagano. Quindi voglio dire, ne usciamo tutti un po' feriti, un po' più chiusi e molti anche un po' arrabbiati. Per cui c'è da rimboccarsi le mani che insomma è ricominciare un po' da capo. La risposta è grande perché per esempio andando nelle scuole io vedo che ogni volta che vado in una scuola ne usciamo con 250 abbonamenti, 300 abbonamenti, ma non è solo perché ci vado, non è solo ricevere l'abbonamento, è che quello che io spiego è che capire la cultura, che sia musica, che sia teatro, che sia cinema, che sia arte, significa partecipare al banchetto degli dei dal quale siamo esclusi se noi non lo conosciamo. La tavola è lì, la tavola è lì per tutti, non solo, ma la vita ci riserva in futuro risposte non facili. E se la mente, come io sono una sportiva, tutto si fa con l'allenamento, anche il pensiero, anche la sensibilità. Se la mente e la sensibilità non è abituata alle, diciamo, grandi domande della vita, tu dai risposte facili, giri alla prima boa e torni indietro perché sei in affanno. Se sei allenato, puoi sviluppare, non è che l'arte ti dà risposte certe, non è il suo compito, ma ti fa elaborare domande più interessanti. Che meraviglia. Il banchetto degli dei mi ha schiacciato. Torniamo nel frattempo in diretta. Poi sono un buon bustaio. Ma non era quello il senso, Iva? Ti piaccio, ti piaccio. Ti piaccio, ti piaccio. Abbiamo ascoltato gli stadio, con un giorno mi dirai, ma torniamo a ritorno al futuro. Si può fare. La nuova stagione del Teatro Biondo, stagione 2022-2023. Ci sono stati fortunati che hanno ricevuto la telefonata della Villoresi e noi ce l'abbiamo qui in diretta a raccontarci questo cartellone. Quando si alza il sipario? Allora, si alza il 21 di ottobre, per cui affrettatevi, perché sapete che col primo spettacolo giorno dopo giorno comincia a chiudersi la possibilità dell'abbonamento che, credetemi, è irrisorio. Arriviamo al prezzo per gli studenti di 3 euro a spettacolo. È troppo, è troppo. La cifra più cara per 12 spettacoli praticamente è di circa 14 euro in platea posto davanti, primo settore, 14 euro a spettacolo, cioè... Ma stiamo parlando sul serio, wow! Noi non abbiamo alzato di un centesimo, aumenta tutto, ma noi no. È incredibile proprio perché in questo momento... I costi sono elevatissimi per la gestione del teatro. Assolutamente. E quindi, allora, dicevo, grandi classici, qualcuno volò sul nido del cuculo, Ivan, cos'era? Un film straordinario, Foreman, Jack Nicholson, con una compagnia che Palermo ha tanto apprezzato che l'anno scorso ha fatto fronte del porto. Daniele Russo ha vinto tutti i premi come miglioratore. La storia è riambientata nel manicomio di Aversa, regia di Alessandro Gassman. Abbiamo uno Shakespeare, il più birbone che c'è, sogno di una notte di mezz'estate, con Brescia. C'è una serie di collaborazioni con tutta Italia, cosa che ci ha permesso di fare un cartellone a detta di alcuni regale, non certo da crisi. Allora, con Catania, coproduzione, grande autore siciliano, Pirandello, così è se vi pare, con Eros, tamburo, Eros Pagni, e Anita Bertolucci, un altro classico siciliano, Brancati, Don Giovanni, involontario, e qui c'è un gruppo di giovani, altro teatro con la compagnia di Tony Servillo, coproduzione, Saponaro, giovane regista napoletano strepitoso, tanti nostri attori giovani, Fabrizio Falco, Davide Cirri, appunto nel teatro grande, nel grande circuito teatrale italiano, Emma Dante, che come sempre vogliamo in ogni sua nuova produzione, il tango del Capinere, vedete che ci sono quindi linguaggi teatrali anche molto diversi, un Sirano di Bergerac, con la compagnia di Ancona, che avete apprezzato l'anno scorso, in orgoglio e pregiudizio, tanto applauditi, ritornano con un Sirano, ma il musical che fece Domenico Modugno, quindi ancora una cosa che ci riguarda, a che servono questi quattrini, questo era un famoso testo di Curcio, che nel 1940 diventò un cavallo di battaglia, che rese famosi i fratelli De Filippo, qui il tema, lui dice il protagonista dello spettacolo, che bisognerebbe abolire i soldi, se no la società si muoverà intorno al danaro, e non alle esigenze umane, il signore purtroppo ci aveva visto, è giusto, è visto proprio di sì, e poi ragazzi, una chicca pazzesca, Seagal Dreams, che significa i sogni del gabbiano, perché è ispirato al gabbiano di Chekhov, che vi invito a vedere, si trova su YouTube, e io lo feci da ragazza con bell'occhio, nella parte della giovane di Nina, la ragazza che vuol diventare attrice, qui invece come molte attrici, ho fatto da giovane Nina, e da vecchia faccio l'attrice famosa, l'Arcadina, quindi qui sarà in scena, sì, la regista è, Irina Brook, figlia d'arte del grande Peter Brook, che è recentemente scomparso, e di Natasha Perry, grande attrice, che era di origine russa, naturalizzata inglese, per Irina Brook, che già collabora con i nostri studenti, con i giovani, anche durante il lockdown, è praticamente la famiglia, una famiglia teatrale, una famiglia d'arte, ma in realtà si parla di questi, questa primatrice, che è un compagno, un amante, che è uno scrittore famoso, che praticamente asfaltano questi due giovani, il figlio di lei, Costia, che vorrebbe scrivere, Nina, la figlia dei vicini, che vuole diventare attrice, questo ego degli adulti, che veramente distrugge i giovani, purtroppo, cosa che succede, abbiamo cominciato dei laboratori, signore e signori, ci fa improvvisare sul personaggio, ora, avrò io qualcosa da dire, come madre, che ha asfaltato ben tre figli, è successo sicuramente anche a me, se il buongiorno si vede dal mattino, ragazzi, anche un attore americano, Geoffrey, e che dirvi, è dai tempi di Streller, che io in palcoscenico, non godevo così, che bellezza, ci sono ancora tanti altri appuntamenti, da raccontare, ma torniamo da voi fra pochissimo, abbiamo la pubblicità, i tempi della radio ce le impongono, ma vogliamo continuare a guardare, cosa accadrà al Teatro Biondo, nel 2023, siamo arrivati a marzo, quindi siamo arrivati a marzo, non perdetevelo, perché ve lo stiamo raccontando, tutto spettacolo per spettacolo, solo su Radio In, non ci servono in questo momento le cuffie, fra tre minuti, riprendiamo il discorso dal 9 marzo, perché siamo arrivati al 9 marzo, questo io vi guido, io tengo a mente i passaggi, ce li abbiamo, per condividerlo con i nostri ascoltatori di Facebook, visto che poco fa abbiamo anche speso un po' di parole sulla locandina, su questo cartellone bellissimo che ci è piaciuto, l'ho mandata anche al nostro Ryuki in regia, per farla vedere al pubblico che ci segue su Facebook, così ve la mostreremo. L'avevano già la locandina, brava. Così, in live, in tempo reale, perdiamo qualche istante, però... Noi teniamo molto la diretta Facebook, perché è in assoluto una TV, certo, a tutti gli effetti, come no? Ci vedono, ci vedono, e lì ci conoscono anche meglio, sanno anche quelli che sono i nostri difetti, le nostre debolezze. fuori da questa fascia in diretta, quindi la gente poi la sera si va a riguardare, e abbiamo dei numeri enormi. Come programma sì, infatti sono molto contento, poi lei è una padrona di casa perfetta. Ci completiamo, lui va a scovare invece tutte le cose. Io ci lavoro una settimana su questa cosa, Passato di ogni ospite che intervistiamo, e allora ci porta veramente di tutto e di più. E poi ti dicevo, becchiamo tutte le anteprime dei film, lei mi sfotte perché porto sempre i registi, io ho sta mania dei registi, chissà perché. Una leggera, sai come dicevi, ho portato cinque ospiti, dico, vabbè, cinque registi, quattro registi, un attore, quattro registi, uno scenografo. Però che forza, abbiamo una passione per i registi. Noi registi in anteprima. Però abbiamo intervistato veramente anche gli scenografi, anche abbiamo intervistato chi si occupa dei montaggi, abbiamo intervistato tutte un po' le figure del cinema. Eccola qui, così l'abbiamo descritta poc'anzi, non tutti magari avevano avuto ancora l'occasione di vederla a questa copertina e ce l'abbiamo qui. È proprio fantastica. Sì, lui prende sempre questi elementi del passato e li inserisce nel quotidiano. Noi gli mandevamo tutte le immagini da Palermo. Come l'hai scoperto quest'artista? Lo conoscevi già? Guarda, me l'hanno fatto conoscere mia figlia Eva e i suoi amici che avevano visto una mostra a Napoli di quest'artista ucraino. Dice, mamma, guarda che belle immagini. E io ho detto, cavoli, dico, mi piacerebbe contattarlo, no? Ma dopo un po' che me l'avevano mandato, dico, ma dove lo trovo? Dico, ma vi ricordate come si chiama? Non si ricordavano bene. Insomma, alla fine su internet l'ho trovato. e ho scoperto dopo che avevo deciso di chiedergli l'immagine per la nostra nuova stagione, ho scoperto che era ucraino, che era Kiev, per cui è diventato un doppio legame, insomma, oltre che la stima professionale. Adesso possiamo rimetterle le cuffie. Capita così, Bruno Rissas su Radio In, capita anche di essere in compagnia di Pamela Villorese all'interno del nostro Open Day. E capita anche che stiamo veramente scoprendo pagina dopo pagina di questo libretto, spettacolo dopo spettacolo, tutto ciò che si potrà vedere al Teatro Biondo per la stagione 2022-2023 e ci eravamo fermati al mese di marcio. Esatto, torna Goldoni sul nostro palcoscenico, la bottega del caffè consolidato rapporto con Trieste e con Michele Placido, protagonista. Altro classico... Quindi non mentiva quando diceva ci sono grandissimi nomi nonostante i prezzi che non ci sono stati toccati. È la verità, lo stiamo constatando. Maria Paiato è un'altra, una delle più grandi attrici italiane, con Boston Marriage di Mamet. Venivano definiti i matrimoni di Boston alla fine dell'Ottocento, primi Novecento in America, in quelle donne che convivano, le convivenze tra donne che non si facevano mantenere da uomini, cioè si parlava di lesbiche. Questo testo ebbe un grande, fece scandalo, ma ebbe un grande successo, per cui, come vedete, ci sono vari spettacoli che parlano di vari problemi, dalla follia, all'ecologia e quindi anche di genere ogni anno. Cento anni dalla morte di Verga, La Lupa, una siciliana ormai diva del cinema, Donatella Finocchiaro che ne cura anche la regia, per cui è una visione, diciamo, della lupa vista dalla parte della donna. Con Bruno Di Chiara, voglio dire, compagnia di primordine, sempre con Catania e poi invece col Mercadante di Napoli una coproduzione torna in teatro Roberto Alaimo che ha diretto il teatro prima di me con un suo testo scritto apposta alla Compagnia del Sonno che è una compagnia teatrale che mette in scena i sogni, ma d'altra parte tutte le compagnie teatrali e anche cinematografiche mettono in scena i sogni. E come vi dici... Quanti grandi verità, ma ce le stiamo scrivendo queste frasi? che sono straordinarie. La stagione della 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 Salastreller non è da meno, infatti Masciamusi col primo spettacolo di un enfant prodigia l'esso e arena palermitano già due non ha ancora trent'anni ha due cattedre scrive libri vince premi e ha scritto questo monologo sulla moglie di Pirandello le lettere che lei scriveva nei decenni che ha passato in manicomio dove poi è morta. quindi Masciamusi che è stata tanto apprezzata in Anna dei Miracoli qui da noi giusto un altro spettacolo Rosario Lisma altro siciliano ormai famoso nel circuito teatrale infatti lo spettacolo è di Genova Fondazione Luzzati Loreste anche qui coproduzione con la Romagna Teatri e l'attore pensate questo spettacolo ha vinto il premio al Festival del Fumetto a Luca perché perché l'attore interagisce con i cartoni animati perché anche qui si parla di follia e quindi i personaggi che lui vede sono tutti cartoni animati poi un'altra grande scrittrice siciliana Lina Prosa ormai famosa in Europa testo Ulisse Artico coproduzione con l'H di Lugano quindi con la Svizzera attore Giovanni Crippa che ha insegna anche docente alla alla scuola del piccolo teatro di Milano la scenografia così capite l'argomento è un grande blocco di ghiaccio che si scioglie poi abbiamo Rosario Palazzolo ormai regista di riferimento Se son fiori moriranno con un'altra attrice che ormai anche lei sta sfondando nel cinema che è Simona Malato reduce ora dal Festival di Venezia torna Silvia Ielli sui nostri palcoscenici con un testo su Katrin Mansfield che io ho tanto amato da ragazza Risate di gioia Siamo a marzo aspetta perché marzo è il nostro switch qua stiamo a marzo siamo a marzo interrompiamo noi a marzo ormai ci parliamo però c'erano gli ultimi e allora Risate di gioia con Elena Bucci Marco Sgrosso un testo comico sul mondo del teatro però ai tempi della Duse di Tofano di Pandolfi e l'ultimo cioè il penultimo anzi 126 perché era la macchina che conteneva l'esplosivo della strage di Via D'Amelio testo meraviglioso di Fava di Fava di Abbate con Coco e un'altra grande attrice siciliana ormai famosissima che è Roberta Caronia dopo la musica vi racconto invece premio Sicilia di scena perché non ci basta far conoscere i talenti che già conosciamo vogliamo anche noi conoscerne di nuovo io lo sapevo che finiva così come finiva un vulcano ecco ora abbiamo i premiati nel frattempo siamo sempre sulla pagina di Facebook sempre in diretta volevo recuperare se c'era qualche messaggio volevo controllare nel frattempo mentre siamo qua comunque hai abbracciato un mondo un mondo soprattutto anche trasversale questo è bello quando tu dici di toccare vari temi vari argomenti vai a soddisfare anche le esigenze e i bisogni di un pubblico che comunque sembra di nicchia ma non tanto non tanto infatti si si però si affrontano i temi però come vedi c'è anche il divertimento ma anche affrontando temi seri voglio dire si può godere non solo della bellezza di uno spettacolo ma può essere anche affrontato in modo ironico e spiritoso poi il biondo è anche scenograficamente è un teatro che ti accoglie è un teatro caldo è un teatro che ti fa stare bene da un punto di vista emotivo Eliana e comunque anche in questa stagione adesso abbiamo gli ultimi contratti da firmare però di nuovo avremo un 70% di scritturati di artisti del territorio che è bello sulle produzioni perché quando facciamo coproduzioni poniamo una regola fin dove è possibile e naturalmente non mettiamo bocca su chi però artisti nostri per cui mandiamo tutti i filmati video che ci hanno mandato tanti attori ma non solo registi eccetera poi c'è anche in molti spettacoli vari nostri alieni ma senti Pamela questo è il frutto di una selezione dammi un numero quante proposte ti arrivano in un anno è una curiosità mia tecnica intanto di testi di questa valenza quanto arriva allora di testi ne riceverò una cinquantina l'anno da leggere però mi sto leggendo anche molta letteratura siciliana tante donne strepitose che scrivono ragazzi storie bellissime non c'è solo come si chiama l'Aiello o Thornby no ma c'è per esempio una scrittrice che si chiama Torregrossa straordinaria ma c'è chi più ne ha più ne metta molti sono gialli curiosamente ma molti invece parlano della storia delle varie famiglie siciliane quindi veramente ho riuscito dopo col nuovo libro di Costanza Quadriglio per esempio Costanza è vero sì della Quadriglio no scusami di Quattro ho sbagliato il Quattro mi ha confuso di Costanza di Quattro io ci lavoro con la Quadriglio che l'avrei saputo è uscito un nuovo romanzo di Costanza di Quattro e lei va a studiare tutte quelle famiglie per cui c'ho diciamo tutti i tavoli pieni di libri da leggere poi ci sono le proposte che arrivano da tutti gli altri teatri qualcosa la coproducono loro e qualcosa invece coproduciamo noi di idee degli altri insomma per fare le cose belle bisogna unire le forze erano in modà con gioia e quanta gioia stiamo provando noi quest'oggi non si può neanche misurare perché abbiamo raccontato il cartellone della nuova stagione del Teatro Biondo sia ciò che accade in Sala Grande sia ciò che accadrà in Sala Sreller ma non vi volete fermare lì cioè siete stati racchiusi chiusi no? anche ogni tanto attraverso lo schermo in periodo di pandemia adesso questo ritorno al futuro voglia di fare di non fermarsi mai no vogliamo conoscere anche altri talenti che non conosciamo e infatti facciamo un bando ogni anno si chiama Sicilia di Scena terzo e secondo posto sono messi in scena cioè gli diamo la visibilità del teatro mentre il primo premio c'è la produzione dello spettacolo e allora cominciamo con sconfinati che parla di migranti per sole 50 persone che vengono prese come i migranti e vengono forzatamente spostate da una parte all'altra del teatro fino a finire in palcoscenico che sarà il culo di una nave e li stipiamo tutti lì un altro è Radio Killers che sarà in Sala Sreller e che si indaga sull'origine del male e il vincitore che ha già vinto come testo altri premi è La Consegna di Marino e un altro grande attore siciliano ormai famoso anche grazie alla televisione Fabrizio Ferracane poi ci saranno anche gli spettacoli per bambini Marino che è uno psichiatra lì si tira un mondo tutto molto interessante che io conosco bene Eliana quindi questo sarà avete fatto una scelta una scelta davvero strategica i nostri abbonamenti sono sette spettacoli fissi tre a scelta in sala grande due a scelta in sala piccola quindi c'è anche questa flessibilità poi che è importante ci sono varie formule poi c'è gli studenti hanno comunque sempre il 50% di sconto ma l'abbonamento studenti i ragazzi in alcuni posti si spende 3 euro a spettacolo quindi questo lo facciamo perché vogliamo che tutti i giovani abbiano accesso ma stiamo creando anche un futuro al teatro perché voglio dire i ragazzi sono il pubblico futuro quindi credo che sia un lavoro importante sia per i giovani perché poi il teatro ragazzi c'è anche la musicoterapia il teatro terapia non aiuta solo a partecipare al banchetto degli dei come dicevamo prima quindi a godere di quanto l'umanità di meglio ha lasciato di sé ma aiuta anche a risolvere tanti problemi perché il teatro è un lavoro che si fa tutti insieme e questo non solo ma attraverso diciamo un personaggio un alter ego si riesce a tirare fuori tante cose di noi durante la pandemia noi abbiamo fatto un grande lavoro online con le scuole e abbiamo visto che i ragazzi lo dicono lo dicevano anche gli psichiatri dell'unità con i quali abbiamo collaborato nel momento in cui davano una forma artistica a questo magone indigerito trovavano la chiave per uscire da quella stanza era un ancoraggio si si è un modo di uscire da questo fenomeno di chiusura dell'ikikomori che si è aggravato con gli anni di pandemia ma noi abbiamo detto che volevamo dedicare qualche minuto alla carriera di Pamela Villoresi complicatissimo perché veramente abbiamo poco tempo però c'è quel montaggio che io vorrei proprio fare vedere allora mandiamo la pubblicità e subito dopo vi aspettiamo che non ho curato io ma che io ho scavato come i bravi archeologi col pennellino l'ho trovato in rete in una delle tante interviste che ha avuto Pamela sono i 50 anni di carriera quest'anno e quindi ho trovato molto interessante questo mix di immagini allora restate con noi se siete curiosi perché chissà che cosa riusciremo a vedere fra poco sempre qui su Radio Vini la voce della tua città ve l'avevamo promesso e quindi lo vediamo si è un frammento Rai Rai 1 dove Pamela è stata ospite di un programma come si chiama? perché ne abbiamo due quali sono i nomi che hai? i Ryuki? Villoresi e Sicilia no no Villoresi vediamo noi quanto ti ho amata io vabbè ti sembrerà strano ma mi piace Don Matteo e vabbè un po' parri in aro guarda avevo una scaletta di argomento come sei tu? perché non ti chiamo così non ti permette posso memorizzarti sul cellulare così il parri in aro dai no vabbè avevo una sfilza di domande il rapporto con la fede ci dovrà tornare a trovare non è colpa nostra non è colpa nostra Pamela abbiamo bisogno di una parte due poi non ho trovato materiali su tuo marito e mi piacerebbe un po' lui è un grande direttore della fotografia anche mio suocero Gabor Pogani che aveva fatto anche la sociara Mondo di Notte ho lavorato con Jules Dessert e mio marito che è figlio d'arte ha fatto dei bellissimi film come direttore della fotografia era una goduria per me uscire fuori questi argomenti infatti in teatro certe volte dice madonna come prendi le luci mi dicono sono stata sposata con un direttore della fotografia mi aveva proprio insegnato a sentirla sul viso chiaro è vero sì un altro vedi sono poi tanti dettagli poi era viola nel film di Sorrentino cioè torniamo alla radio hai un minuto due minuti per condensare tutto questo un picco di frustrazione ma devo tornare dai il curriculum quando torno così festeggiamo per bene 50 abbiamo trovato la soluzione torniamo alla radio intanto esatto faccio un secondo abbiamo ascoltato I've been thinking about you e torniamo all'interno del nostro appuntamento di Open Day questa giornata di cinema e non solo potremmo fare Open Day cinema e non solo straordinariamente di mercoledì è vero perché il nostro appuntamento è il martedì però dovevamo riuscire a fare un po' di cose e quindi eccoci qui siamo in compagnia di Pamela Villoresi Ivan Scinardo aveva studiato tantissimo perché voleva festeggiare insieme questo appuntamento volevamo fare un mix tra carriera i 50 anni di carriera allora questa è stata la puntata dedicata al cartellone del Teatro Biondo per la stagione 2022-2023 dovremo organizzare Pamela un'altra puntata per festeggiare i tuoi 50 anni di carriera intanto io voglio da questi radioascoltatori gli auguri con dita incrociate perché ormai io faccio canottaggio ormai l'ho detto da tutte le parti e gareggio con i colori Lauria circolo Lauria Mondo e Lauria Mondello e abbiamo i nazionali come Master approcida partiamo domani venerdì le squalifiche sabato la gara e quindi incrociamo le dita l'ultima volta siamo tornate con un oro sui 500 sprint questa è una 6.000 metri sono mezz'ora di gara a metà uno si vuole suicidare buttare in acqua e va bene per cui dita incrociate c'è più faticoso di una fornette teatrale no non c'è ombra di dubbio ma ormai per me neanche un Oscar vale quanto io dormo con le medaglie quando le vinco ma sai ci vuole te lo giuro sul cuscino perché siamo così serie in barca con me e c'è una che fa la volontaria allo zen un'altra che sta nei reparti covid in mezzo ai morti da due anni cioè noi arriviamo in barca e gambe a morire batti il 5 un'ora capito torni 12enne poi ribai in ufficio rifai tutte le ma noi ci vediamo sempre così composta così elegante non si capito perché uno capito si pulisce l'arma si pulisce la testa anche lo stomaco e poi è pronta ripigliarsi altre batoste perché come dire ha rifatto un pieno di non solo di mare ma anche di di rapporti belli di solidarietà ecco vedi se noi si imparasse se noi tutti si imparasse la solidarietà che c'è in barca e nello sport pensa che bella metafora noi in 8-9 donne tiriamo su barche di 20 metri le giriamo e le mettiamo sui carrelli perché insieme coordinati si può bellissimo metafora della vita tra l'altro si parla dello sport e da questo messaggio non possono che venirci in mente anche le immagini degli ultimi giorni di Federer e Nadal mano nella mano che in un momento da Dio hanno pianto insieme dopo essersi rubati a vicenda titoli rubati nel senso che confrontati negli anni sui campi di battaglia sportivi e quindi questo sport che deve essere di nuovo un punto di ritorno perché la pandemia ha tolto anche quello non ha tolto solo il teatro ma i ragazzi hanno avuto questo limite noi siamo stati abbastanza fortunati perché essendo all'aria aperta in barca chi aveva il certificato agonistico e noi ce l'avevamo non nel primo ma nel secondo lockdown potevamo allenarci quindi diciamo siamo stati abbastanza fortunati allora in ordine cronologico prima in bocca al lupo all'atleta ma per la Villoresi la mia immagine di Pamela oggi che mi porto è quella che dorme con le medaglie sì dorme con la medaglia comunque la foto di squadra vestita pronta perché la vorrei guarda te lo faccio vedere subito abbiamo finito quindi ora lo vediamo fuori onda questo e lo tiriamo fuori poi per la prossima puntata vai sul mio whatsapp e prendi l'immagine su whatsapp quindi proprio la presentazione ufficiale al mondo così se ti cercano dicono no vabbè questa non sarà la Villoresi c'è il costumino della nazionale fantastico è vero eccomi qua guarda ma che bella che sei ecco la guarda vediamo che meraviglia bellissimo bellissimo con i colori che emozione anche questa cosa questa bandiera dell'italia fantastico ma vedi questa non mi era sfuggita me l'ero persa questa informazione bellissima scoperta i visi dietro sono tutti tiratissimi questa è una foto fatta alla fine della gara possiamo dire Ivan che deve iniziare ad allenarsi Pamela anche l'ora di trasmissione notavo che forse non ti farebbe malissimo uccidiamo uccidiamo così pure voi ma guarda non ci si fa poi dici che sono io che ti maltratto Pamela Villores nonostante lo sport e ne faccio tanto ho preso 5 kg in questi tre anni da che vivo a Palermo ma come non se ne esce e poi lo smaltisci dai no ma che smaltisci guarda lo smaltisci no chissà se no quanto sarei però Ivan ogni tanto vedi che cosa si può fare va bene detto questo detto questo siamo arrivati alla fine sono le 11 invitiamo ovviamente a visionare quello che è il programma del Teatro Biondo anche online si può trovare tutto quanto tutte le informazioni o andate al botteghino online provate tutto anzi c'è anche un video dove rispiego tutta la stagione per caso l'aveste perso ora qualche pezzetto poi sono bravi al botteghino c'è Guido è adorabile sono bravi tutti bravi fantastico e bravo anche il nostro Ryuki che ringraziamo per la regia di quest'oggi grazie a tutti voi che ci avete seguiti grazie immensamente Pamela Villoresi per essere stata qui con noi grazie a voi un applauso ci sta così noi aspettiamo il secondo appuntamento ce lo siamo promessi quindi aspettiamo di poter raccontare questi festeggiamenti per i 50 anni di carriera Ivan ci rivediamo la prossima settimana però torniamo al martedì con il nostro pendicino certo e poi tante altre cose che accadranno nel corso della giornata qui su Radio In dove vi invitiamo sempre a raggiungerci ciao a tutti buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti